Siamo in compagnia di mister Marco Luciani al termine della sconfitta della Lassio per 1 a 0 contro il Varazze. Mister ci avete provato fino alla fine, forse non è bastato, cosa si poteva fare di meglio? Ma è concretizzare le palle, quelle del primo tempo soprattutto che abbiamo avuto un po' troppa energia e precipitazione nel concludere l'azione perché ne abbiamo avute tre, se la gestivamo sicuramente meglio sicuramente avremmo ottenuto qualcosa di più. Un Alassio che sta faticando ad ottenere risultati dopo le due sconfitte in Coppa, arrivano queste due sconfitte in campionato con un avversario che lotterà per la salvezza con voi come il Varazze. Cosa c'è ancora da migliorare? Sono tutti il calcio per me, più giochiamo più abituiamo anche i ragazzi a abituarsi a giocare in questa categoria. Siamo un gruppo giovanissimo e sicuramente più partite facciamo più ingranaggio. Oggi secondo me era una partita che poteva essere tranquillamente un pareggio, la mia opinione, perché loro hanno avuto due occasioni anche loro, ma noi le abbiamo avute anche diverse nel primo tempo e con un po' di precipitazione abbiamo avuto anche nel secondo tempo una palla all'occasione davanti al limite dell'aria e l'abbiamo buttata fuori, però questo ci sta. Poi è mancata un po' quella cattiveria che forse ti fa fare la marcia in più. Questa è la mia opinione. Un gruppo giovane, come detto, su cui bisogna lavorare, su cui bisogna costruire. Questa Lassio può puntare, può provare a farcela centrale a questa salvezza? Sì, sì, assolutamente. Io ne sono convinto perché è un gruppo forte, la mia opinione, manca un pochino di esperienza. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo e ripeto, la primo girone secondo me deve un po' ingranare tutti i meccanismi e aiutare i ragazzi a raggiungere e a formarsi e abituarsi a giocare in questa categoria. Questa è la mia opinione. Poi nella seconda fase sicuramente dovremo andare a combattere realmente per questa salvezza e via. La squadra io ritengo che c'è, non bisogna perdere assolutamente perché abbiamo dei giocatori di un certo livello importante e quindi sono sicuro che i risultati arriveranno, ma bisogna avere tranquillamente, siamo alla seconda di campionato, ci aspettano, se va tutto bene, 20 partite più il successivo girone, quindi sono abbastanza tranquillo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.